Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Drazo Xolta Sinco, ci siamo qui in questo nuovissimo video su niente ho visto da internet, da youtube, dei trucchetti di magia con l'anello appunto li andiamo a provare e vi spiegherò come farli il primo è questo, però l'ho imparato da un mio amico, cioè da un amico di mio papà avete l'anello, è scomparso, il trucco, lo faccio vedere così, aspettate, ok, si dovrebbe vedere che qualità, prendete, fate canzire l'anello e fate così, molto semplice, trucco veloce e certe persone sono rimaste stupite quando l'ho fatto e il secondo è questo allora, vi serve un anello e un dito non so che dito è allora, prendete, sfilate l'anello ok, c'ho qua la cosa 3, 2, 1 non l'ho fatto molto bene, raga, però quando lanciate la gente sarà vedrà il lancio solo, credo, perché l'ha detto un aiuto e ragazzi, il trucco consiste, l'avete già capito, perché è molto semplice appunto prendete, fate finta di sfilare l'anello, cambiate dito con il medio lanciate e questo sarà il, non l'ho d'accusa guardate qui, cosa verrà? oh, sfilato oh ecco qua il secondo ora vi faccio vedere il secondo ragazzi, il secondo devo mettere la telecamera così mannaggia, miseria scusate ok, vedete? ok, vedrete non lo farò molto bene perché, appunto, non sono bravo eh, aspetta, c'è un cuore adesso che non sono mancino non ci riesco difficile, vabbè, mette il suo qua voilà vabbè, l'avete già visto, perché basta che hop là eh avete già questo allora, consiste mettete l'anello vicino a un dito fate così è facile ragazzi molto anche io l'ho imparato in un attimo anche se non lo so fare molto bene allora che altro trucco posso fare raga ah giusto non me lo ricordo ah sì, ok andate hop è scomparso guardate è scomparso non c'è più è tornato eh lo so fare questo dai un pochino non tanto il trucco consiste la mano qua vabbè l'anello tra due dita bam fate questo questo è il movimento procedete così bam dovete chiudere le due dita e il risultato sarà questo tre due uno bam poi mettete l'anello nel pollice e fare mettete dietro e fate vedere le dita poi cambiate tipo dito e appunto va e il video si dice qui spero vi sia piaciuto se così lasciate like al video se non vi è piaciuto non me ne frega proprio niente pure dislike ragazzi tanto hater non me ne frega niente di voi e noi ci vediamo al prossimo nel prossimo video bye da boys